Melissa ha twittato che aspetta un figlio e io ci tenevo a smentire assolutamente che non è di Boateng è mio. Tu sei pazzo. Lo chiameremo comedy, comedy primo, poi dopo se ne esce un secondo un comedy, secondo un comedy terzo. Melissa salta incinta, Omar Fantini, amico di letto della modella su Comedy Central, rivendica la paternità del futuro bebè e manda il suo personalissimo messaggio di auguri alla collega di Seth. Finalmente anche tu capirai cosa vuol dire non dormire di notte e svegliarsi perché hai qualcuno che piange nella stanza accanto. Capirai che cosa ha provato Boateng ad averti lì. Aspettando Melissa e la terza serie di amici di letto, Omar Fantini ha ripiegato su Melita Tognolo che lo affiancherà breve su Comedy Central nella seconda stagione del Cabaret Show Metropolis. Ho chiesto partner che avessero nomi simili così da non confondermi perché le chiamo tutte Meli e sono a posto. Se ci fosse una Melinaia, una Melinar che vuole fare un programma su Comedy, sappiate che potete proporvi, vi prendiamo di sicuro. Basta che iniziate per Meli. Non è Melissa salta, l'ho detto. E non è neanche Melita, sono io. No, 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 no.